ciao bentornati sul canale youtube della scimia pensa.com come vi avevamo anticipato la nostra terza video recensione è un po diversa dalle altre prima ci siamo dedicati a due successi intergalattici per quanto controversi la serie marvel vanda vision e la snyder cut justice league snyder cut passiamo ora invece a una piccola serie di culto di culto veramente per troppe poche persone perché inspiegabilmente questa serie molto attesa non ha minimamente incontrato il successo che meritava né negli stati uniti né meno che mai nel nostro paese se volete ascoltare il nostro accurato appello o meglio il nostro consiglio trovate la prima stagione di alta fedeltà ai fideliti la serie su disney plus e anche sul canale stars play di amazon prime video la serie alta fedeltà segue evidentemente la gloriosa tradizione inaugurata nel 1995 dallo scrittore nick orpai con il romanzo alta fedeltà è proseguita con un film del prode stefan frears dell'anno 2000 che vedeva come protagonista john cusack e torna nell'anno 2020 anche se noi la stiamo in realtà praticamente recuperando soltanto adesso è uscita il 14 febbraio il giorno di san valentino del 2020 e la rivoluzione il cambiamento radicale è che questa volta la protagonista robin sia evidentemente una donna una giovane donna alla soglia dei suoi trent'anni di origine afroamericana interpretata dalla divina Zoe Kravitz una creatura che evidentemente è stata che è praticamente nata sotto le luci dei riflettori hollywoodiani è infatti Zoe Kravitz la figlia di quelli che erano due giovanissimi Lenny Kravitz ancora mi sconosciuto il grande pubblico e quella che invece all'epoca era un'attrice veramente all'apice della sua carriera nonostante la giovanissima età Elisa Bonet che all'epoca era arcinota presso il pubblico americano in quanto interprete di Denise della sitcom i Robinson la famiglia Robinson aveva conosciuto anche uno spin off interamente dedicato a lei aveva poi abbandonato la serie anzi era stata licenziata dalla serie proprio perché era rimasta incinta e aveva dato alla luce a questa bambina Zoe Kravitz è poi in realtà cresciuta con quello che considera un secondo padre che è Gesù Momoa e il marito di sua madre Elisa Bonet che è 12 anni più giovane di lei e hanno avuto a loro volta altri due figli insomma Zoe Kravitz è un modello di glamour di impossible cool ma è anche un attivista su più fronti e è un po' il simbolo insieme a questa sua famiglia allargata di un'idea di modern family estremamente più aperta di quanto siamo abituati a vedere di quanto siamo abituati a vedere sia nella mentalità dell'americano medio che nella nostra quindi in realtà perché tutto questo perché la personalità di Zoe Kravitz che diventa Robin la protagonista della nuova variazione sul tema di di alta fedeltà di Fidelity è evidentemente non è soltanto anche la produttrice di questa serie Zoe Kravitz non l'ha solo fortemente voluta e non si sta solo fieramente opponendo a quella che purtroppo sembra che sia la la cancellazione Wool Wool la piattaforma americana che ha inizialmente prodotto la serie non sembra intenzionata a produrre una seconda stagione e sarebbe veramente un peccato non non arrivare alla fine non conoscere l'esito di tutta una serie di linee narrative che arrastano comunque aperte alla fine della prima stagione ma non solo questo diciamo Zoe Kravitz ha letteralmente fisicamente messo qualcosa di suo in questo personaggio e questo è oltremodo evidente e non riguarda solo la protagonista che evidentemente la protagonista assoluta della serie il punto di vista sulla storia e sulla realtà è quello come era anche prima di John Cusack nel lungometraggio ecco è quello del protagonista ma anche tutti i personaggi secondari che costituiscono fatalmente proprio la famiglia allargata di questa giovane donna fortemente in difficoltà che attraversa una crisi molto profonda della sua esistenza in particolare sul versante sentimentale ma è una vera e propria crisi esistenziale che condivide con una famiglia allargata fatta di personaggi fantastici che comunque nella serie trovano ancora più spazio rispetto al film da notare che l'ispirazione nella scrittura nella produzione della serie è proprio essere una diretta evoluzione non del libro del 95 ma del film di stefan free arts dell'anno 2000 perché perché evidentemente quelli che erano i mixtape di nick or by che restavano comunque i mixtape anche nel film con john cusack diventano adesso una moltitudine di forme il mixtape diventa una playlist su spotify ma comunque la cultura il culto del vinile resta il centro della serie già che la protagonista possiede un negozio di dischi a brooklyn championship records e in questo negozio lavorano i suoi due migliori amici anche se nella realtà non avrebbe un particolare bisogno di assistenti non sono dei banali commessi perché evidentemente comunque questo negozio non fattura abbastanza per potersi permettere la presenza di due dipendenti la loro è effettivamente una famiglia allargata e sono due personaggi fantastici cherise e simon interpretati da due bravissimi attori tra cui questa attrice afroamericana che si chiama da vine che interpreta cherise e diventa il personaggio viene molto ampliato la gamma delle sensazioni dei pensieri a lei legata è veramente molto più ampia ed è uno dei tratti più interessanti di questa serie che dicevamo comunque lascia ampio spazio anche a tutti i personaggi che compongono la cerchia o anche il cerchio magico spezzato intorno a questa protagonista robin qual è la particolarità che in realtà resta assolutamente fedele all'idea del film e all'idea originale del romanzo di nick or by anche prima che venisse adattato per il grande schermo la protagonista di questa serie è un personaggio veramente poco rappresentato al cinema o nella serialità televisiva un personaggio che anzi si tende a rifugire nella vita quello che in america si descrive efficacemente come too much robin è too much da qualunque punto di vista una donna che è probabilmente la designer l'artefice della sua stessa catastrofe è una donna che quando soffre soffre fino in fondo e la premessa della serie come era del libro e del film è che lei racconti i suoi cinque peggiori momenti di cuore spezzato dei five worst outbreaks le cinque peggiori disillusioni d'amore scopriremo evidentemente già che lei si imbarca in questa impresa folle cioè di andare a rincontrare questi ex e queste ex nel suo passato per cercare di capire che cosa abbia determinato l'orrenda dolorosissima fine di questi grandissimi amori parte addirittura dall'infanzia diciamo questo è un progetto assolutamente suicida lei stessa ne è consapevole ma in quanto designer e artefice della propria catastrofe decide comunque di portare a termine l'impresa il vero obiettivo è arrivare a capire l'ultimo il più importante il numero uno il più doloroso di questi heartbreak di questi cuori spezzati è una storia che è finita relativamente di recente ma in realtà è passato un anno quando la serie inizia e questo personaggio deprecabile fantastico che appunto raramente al cinema viene rappresentato è una persona che diametralmente opposta all'idea del cinismo all'idea che si volta pagina che stiamo avanti che tutto si dimentica che tutto può essere in qualche modo sostituito e che non bisogna pensare troppo ai propri sbagli non bisogna colpevolizzarsi più di tanto ma la soluzione più semplice più facile è a collezionare nuove emozioni nuove esperienze di vita che si polgono i nostri errori e ci consentono di andare avanti senza in realtà mai affrontarli veramente quello che fa robin dicevamo e che facevano già i protagonisti del romanzo e del film alta fedeltà è l'esatto opposto è annegare letteralmente nella sofferenza col contributo di una serie di dischi di canzoni e di playlist veramente meravigliose e veramente eclettiche perché la grande particolarità di questa serie è che a livello musicale è veramente oltre modo eterogenea si passa dall'hip hop alla scena underground new yorkese ci sono i punk ci sono veramente tanti generi e una cosa tra l'altro che possiamo notare è che in una delle puntate il personaggio di simon che dicevamo molto importante riporta anche la nostra attenzione non solo ai al culto del vinile ma anche al culto del nastro magnetico dell'audio cassetta delle povere sventurate bisfrattate cassette che invece hanno la loro frangio di cultori che in realtà potremmo riassumere sono cultori di quello che non è un suono di high fidelity ma un suono low fi di low fidelity ma se tra voi ci sono come me dei cultori di questa meravigliosa profonda infedele ma molto affascinante bassa fedeltà che ha vissuto il suo periodo d'oro negli anni 80 e 90 e c'è una puntata e ci sono una serie di battute di simon che spiegano molto meglio di quanto posso fare io che cosa in cosa conservino ancora il un grandissimo fascino i nostri magnetici le audiocassette perché sono un supporto che è stato pensionato un po troppo in fretta un po superficialmente ma che molti di noi continuano comunque molto volentieri a conservare a preservare e ad ascoltare detto questo non vogliamo fare spoiler perché questa video recensione è come tutte le video recensioni del nostro canale assolutamente rigorosamente no spoiler e spoiler free quindi stiamo cercando di incuriosirvi il più possibile perché vi abbiamo fatto capire che in ogni puntata succedono un sacco di cose ma non succedono soltanto un sacco di cose materiali a livello di struttura narrativa succedono un sacco di cose a livello di vita interiore perché un altro dei caratteri dei tratti fondamentali di questa serie è lo squardo in macchina è la fantomatica rottura della quarta parete e ormai flea back probabilmente ha portato questa tecnica oltre i massimi livelli ma anche in questa serie devo dire che è molto efficace proprio perché lo sguardo in macchina l'idea di rivolgersi di interpellare direttamente lo spettatore come se la protagonista stesse contemporaneamente vivendo la verità della propria vita ma anche la finzione di la finzione scenica di una serie che evidentemente non appartiene alla sfera del reale è veramente molto riuscita Zoe Kravitz è veramente molto credibile molto efficace in questo procedimento molto antico che in realtà appartiene alla storia del teatro è stato fondamentale per il teatro dell'assurdo di Ionesco e di Samuel Beckett ma anche per il teatro politico di Bertolt Brecht la rottura della quarta parete e lo sguardo in macchina è una delle caratteristiche fondamentali di questa serie ma in fondo il cuore di alta fedeltà ai fidelity anche nella sua versione seriale è ovviamente l'idea che la musica possa salvare la nostra vita che questa non sia in alcun modo un'affermazione retorica ma un'affermazione molto concreta molto circostanziata e ogni singola puntata di questa prima stagione che ci auguriamo veramente non resti l'unica non resti l'ultima è in realtà un'esemplificazione di come questo cuore spaccato di come questo annegare nella sofferenza di come questo non volere andare avanti ma vivere profondamente intensamente questa sofferenza fino ad arrivare a capirne l'essenza fino ad arrivare a compiere un'impresa ancora più ardua ovvero conoscere la verità non solo dei propri sentimenti del proprio cuore ma quelli delle altre persone delle persone accanto a noi quelle che crediamo di conoscere meglio e che in realtà restano comunque ineluttabilmente un mistero che non finiamo mai veramente di conoscere ecco tutte queste sensazioni queste emozioni queste idee sia a livello di linguaggio audiovisivo che a livello di struttura narrativa sono esemplificate in questa serie in un modo veramente brillante e per questo a questo punto non ci resta che salutarvi e invitarvi ad andare a recuperare questa serie e può darsi che forse se in tanti iniziamo a condividere l'entusiasmo per questa produzione non diventi ineluttabile che una seconda stagione non esista ma magari effettivamente arrivi questa è una cosa che io personalmente mi auguro e la nostra video recensione è finita come al solito se volete trovare cercate qualcosa da vedere sia a livello di film che a livello di serie trovate tante tante recensioni sul nostro sito lasciimmiopensa.com e se volete continuare a seguirci anche su youtube anche la nostra prossima video recensione sarà dedicata a una serie una delle serie del momento e ve lo anticipiamo così forse tornate a trovarci parliamo di race by the wolves la nuova serie di Ridley Scott ciao e grazie a presto Grazie a tutti